Si è tenuta a Riccia la seconda festa della montagna in occasione della giornata internazionale della montagna. L'amministrazione comunale ha voluto riprendere questa storica manifestazione celebrativa delle zone rurali montane in occasione del sessantesimo anniversario dell'allora undicesima festa nazionale della montagna per l'Italia meridionale tenutasi proprio a Riccia nel 1962. L'intenzione dell'amministrazione è quella di riproporre annualmente questo evento in modo da testimoniare la vicinanza alle popolazioni che vivono in queste aree e soprattutto quella di sensibilizzare anche i cittadini e le istituzioni a qualsiasi livello riguardo le problematiche che stanno vivendo queste aree. La volontà è proprio quella di andare avanti, di proseguire, nel ricordare le cose che sono state fatte nel passato e le cose che possiamo fare e realizzare per il futuro e quindi continuarle a fare e far vivere il nostro territorio, le nostre aree interne in collaborazione con tutte le attività e le associazioni del bosco e creare sviluppo soprattutto a livello turistico. L'obiettivo è sensibilizzare sul tema delle problematiche delle aree interne e rurali patrimonio di biodiversità troppo spesso lasciate sole al proprio destino legato allo spopolamento. C'è un tema ancora più importante, più impellente, cioè ricreare un'attenzione, una centralità che sia non soltanto geografica ma anche politica per la montagna e per le montagne in generale italiane e del Molise. Dare una nuova visione, cominciare a capire l'importanza della montagna nella gestione dei servizi ecosistemici. Insieme le scuole, le amministrazioni, i territori, i cittadini per dare senso a un'inversione di tendenza in cui noi crediamo fortemente, che è quella di arginare lo spopolamento e riprendere i progetti per le aree interne. Ne parliamo sempre, però c'è una politica, ci sono le istituzioni, troppo spesso lontane. Un'iniziativa che vede coinvolte anche i ragazzi, in particolare quelli dell'Istituto Pilla di Campobasso che hanno progettato una loro idea di urbanizzazione del Bosco Mazzocca. Una riqualificazione urbana, ma anche di un progetto volto a promuovere il turismo di Riccia. Per esempio, il progetto è diviso in tre aree, l'area ospiti, l'area ristrutturazione e l'area culturale. Utilizzati i visori di ultima generazione. Abbiamo sia i visori statici e sia i visori dinamico, ovvero l'Oculus, dove abbiamo fatto, attraverso il progetto, una renderizzazione dove tutti quanti, attraverso questi visori, possono vedere il progetto proprio realizzato, quindi come sarebbe se fosse realizzato nella vita reale. Nell'occasione sono stati donati e 33 nuovi nati di Riccia, una piantina e un calendario.